Siamo con il consigliere regionale Luca Rossi, ecco un commento caldo di queste elezioni dalla provincia di Alessandria. È un ottimo risultato, il gran lavoro che è stato svolto dall'amministrazione guidata da Baldi in quest'anno e di cui ho avuto l'onore di fare parte fino ad oggi è stato premiato con una grande partecipazione dei consiglieri e dei sindaci, con un risultato che porta ad avere una maggioranza chiara di centro-destra al governo della provincia di Alessandria, con l'elezione dei consiglieri proposti da Forza Italia, quindi Maurizio Sciaudone, Matteo Gualco e Aldo Visca a cui faccio i complimenti come naturalmente anche a tutti gli altri eletti e ora buon lavoro a tutti.